Importante ritrovamento a Teramo e lungo una scarpata nei pressi dell'ufficio manutentivo del comune a Madonna delle Grazie di una statua e dei blocchi di pietra presumibilmente di epoca romana, oggetti dichiarati scomparsi nel 1965. La segnalazione risale a pochissimi giorni fa e la conferma dell'assoluta importanza storica arrivata direttamente dall'architetto Torrieri, referente della sovrintendenza. Si tratta di una statua romana funeraria a grandezza naturale senza testa togata proveniente probabilmente da un mausoleo che si trova in città nel quartiere Cona. Saltò fuori per la prima volta durante uno scavo che la sovrintendenza di Chieti condusse negli anni 60 in città. Si tratta di reperti che erano classificati e smarriti da circa 8-50 anni, quindi erano ricercati in tutti i luoghi. E' stato letteralmente eccezionale di questi sei reperti di valore straordinario dal punto di vista arcologico e culturale. Quindi sicuramente una giornata importante per il comune di Teramo perché arricchisce il suo patrimonio storico con questi reperti che ne sono pochissimi in Italia. Di questo tipo di reperti. Quindi veramente una giornata importante. Tra l'altro erano reperti che stavano ammassati in mezzo a dei detriti nell'area cantiere dell'ufficio monotentivo del comune di Teramo. Quindi appena abbiamo visto qualcosa, soprattutto un operai ha notato qualcosa che si intravedeva a questo reperto, abbiamo avvisato l'architetto Torriere della sovrintendenza che subito si è regato lì e ha capito l'importanza del ritrovamento. Quindi ieri abbiamo organizzato la giornata proprio per recuperare, ripulire e poi l'abbiamo collocato qui al museo della nostra città. Ovviamente adesso si tratta di ripulirli, di fare un lavoro di manutenzione di questi siti con degli esperti del settore e poi speriamo quanto prima di poter renderli visibili a tutta la cittadinanza.